Dove l'hai presa questa? L'ho trovata nell'immondizia. Come nell'immondizia? Ascolti, signor Vito. Io so che Jeremy e il suo compare vendono droga nel quartiere. Li ho visti benissimo l'altra sera. Ma le prometto che non farò la minima storia se lei mi darà lavoro. Non ho neanche i soldi per pagarmi da mangiare. Ho lavorato tutta la vita. Sono stufa. Io l'ho vista. Abita nel blocco Victor Hugo. Deve esserci un posto libero, visto che Jeremy si è fatto beccare. E avete tutti i gendarmi alle costole. I chi? Gli sbirri. Chi sospetterebbe di me? Devo distruggere questi mostri. Senti, eh... Olet. Sì. È la prima volta che una vecchietta vorrebbe sgobbare per me. Tutta a me adesso. Ma forse può funzionare. Ti metto alla prova. Novanta e dieci. Il novanta per cento per me e il dieci per te. Forza, vai! L'affare è fatto, signor Vito.